Ciao da Avsim! Ha vinto la Spagna, questo europeo sicuramente deludente, questo europeo un po' noioso, questo europeo quasi da far innervosire per certi livelli di calcio che sono stati toccati, ma ha vinto il calcio. E non ha vinto il calcio soltanto perché ha vinto la Spagna, che possiamo dire etichetta, stereotipo di quello che è il buon calcio, ma ha vinto il calcio per come la Spagna è stata Spagna in questo europeo. Tu devi essere quello che vuoi essere, non basta l'etichetta appunto, non basta il nome, non basta la definizione che ti viene attribuita magari per tradizione. La Spagna è quella roba lì, ti aspetti quello come gioco dalla Spagna, il discorso del DNA che è stato fatto e piuttosto anche prodomosua, anche per convenienza in tante situazioni, ma che non sta in piedi. No, semplicemente devi poi andare ad esprimere che cosa è espresso la Spagna in questo europeo. L'abbiamo detto durante l'europeo, non lo diciamo adesso, non andiamo a mettere il cappello solo alla fine, l'abbiamo detto seguendo questo europeo, parlandone, discutendone con voi che avete partecipato, che avete voluto essere parte di questa community, della community di Juventus TV, anche con cui abbiamo condiviso l'attenzione, la passione per questo europeo. L'abbiamo detto, appunto, l'avete percepito che, quindi grazie per la vostra fiducia, la vostra partecipazione, che la Spagna stava offrendo il calcio più coerente. Al di là della forza, al di là dei nomi, appunto, che poi non vengono rispettati, tu hai un'identità, la devi rispettare, ma la devi esprimere. Per rispettarla la devi esprimere. Il rispetto dell'identità è espressione dell'identità, è manifestazione, è fare delle cose che si riconducono a quell'identità. Non tradire te stesso, non tradire le tue qualità. E quindi al di là dei nomi, per cui c'erano delle rose veramente forti, veramente interessanti, tante squadre hanno deluso per l'approccio più che per l'esecuzione del gioco, la Spagna è l'unica che non ha deluso mai. La Spagna ha fatto sette partite, tutte bene o male allo stesso livello, ma soprattutto tutte al di sopra del livello minimo di sufficienza, del livello minimo di decenza, del livello minimo di sopportazione, di tolleranza. Invece, per esempio, la Germania non aveva fatto già, prima di essere eliminata, tutte le partite a quel livello lì, come la prima, dove era stata schiacciasassi. E uno dice, beh, è iniziato bene questo europeo. Illusione. Dice, mamma mia, abbiamo una Germania che veramente distrugge la Scozia, chissà cosa possiamo aspettarci da tutte le altre squadre, da tutte le altre partite. E invece rimaniamo delusi. Però rimaniamo delusi molto presto, per cui poi la delusione si trasforma in prevedibilità e quindi è un po' meno delusione e diventa un po' più abitudine a qualcosa di non piacevole, a qualcosa di inaccettabile, per certi versi. E veramente abbiamo provato quasi disgusto per le prestazioni dell'Inghilterra, della Francia, del Belgio, a tratti anche del Portogallo, condizionato da un Cristiano Ronaldo che non ha ancora capito che è arrivato da tempo il suo momento. Ecco, invece la Spagna, la Spagna, non ha vinto soltanto giocando bene a calcio, però lo sottolineiamo, perché è fondamentale. Ha vinto con la sua identità, con uno stile di gioco che ha voluto portare in tutte le partite e che è lo stile di gioco della Spagna, e non perché deve per forza poi diventare la controfigura o la caricatura di se stessa, è lo stile di gioco che la Spagna ha scelto da anni e che ha voluto costruire in se stessa e su se stessa da anni per anni. È lo stile di gioco della Spagna che aveva vinto già due europei, ci aveva messo pure il mondiale di mezzo. È lo stile di gioco della Spagna che ci fa dire Spagna, che ci fa pensare al calcio spagnolo. È quello stile di gioco, quindi quel modo di giocare con tutte quelle caratteristiche che conosciamo bene e quindi sicuramente il ritmo, l'intensità, sicuramente il dominio con il possesso palla, il possesso palla, il tanto demonizzato possesso palla che è inutile, che non serve a niente, creare tante occasioni da goal, andare in area di rigore palla a terra, certo sfruttare anche i cross, ma sapere andare molto bene anche in area di rigore palla a terra, e quindi tutti quei passaggetti corti che a qualcuno fanno innervosire, innervosiscono qualcuno, più di qualcuno. E allora la Spagna, al di là che sia Spagna, quindi non è Italia per chi è italiano o si sente italiano, che poi insomma alla fine del calcio, il calcio è trasversale, no? Quindi queste sono competizioni transnazionali che non dovrebbero acuire le divisioni tra le nazionali come popoli, tra le nazioni come popoli e come identità, ma dovrebbero invece farci scoprire che siamo simili, a volte siamo uguali o che siamo diversi, ma ci piace il diverso, ci piace quello che è quell'altro e vogliamo magari provare ad imitarlo, oppure capiamo che quell'altro, che sarà l'altra parte, ci serve per conoscere meglio noi stessi, per capire meglio chi siamo e che cosa potremmo fare. Se invece partiamo con il discorso, no, noi dobbiamo rispettare il nostro DNA, dopo vedi che anche la Spagna rispetta il suo DNA, se di DNA vogliamo parlare, solo che se ne è scelto uno migliore, cioè se ne è scelto uno che funziona un po' meglio. Allora, come al solito, i trofei a cosa servono? Servono per parlare la lingua dei risultatisti o dei punteggisti, i quali non conoscono altro che il punteggio finale, in maniera molto mediocre e vigliacca. Vigliacca perché? Perché si parla sempre dopo, c'ha ragione sempre chi ha vinto, non capendo che in una partita come quella di ieri non esce sconfitta neanche l'Inghilterra. Esce sconfitta da un punto di vista del peso di un trofeo che non riesce a vincere da sempre. Perché hanno un trofeo internazionale, che è il mondiale del 66, del 66 quasi tutti in ascolto probabilmente non erano nati, ma salutiamo con affetto anche chi era già nato nel 66 eppure da molto prima, che tra l'altro ricordiamo come, non si sa neanche se quella palla era entrata, probabilmente no, diciamo sicuramente no, ma al di là del discorso arbitrale non è quello il punto, il punto è che pesa per l'Inghilterra questo, però l'Inghilterra nella sua prestazione non brillante ha giocato un po' meglio del resto dell'europeo e comunque la sua partita a suo modo ha provato a farla, con tanti difetti tattici, questo slittare il pallone sull'esterno per giocatori che sono isolati, tipo Saka, non creare mai una triangolazione, andarci di passaggi lunghi, provare a fare queste ripartenze in campo aperto che non riescono mai, che non funzionano mai, e quindi regalare alla Spagna pure le seconde palle in uscita dalla difesa, fare blocco basso con cinque difensori, per quanto poi per molto, diciamo corposamente, gran parte di partita l'Inghilterra comunque ha tenuto la difesa abbastanza alta, le squadre erano molto corte in 20-30 metri, quindi ci sono anche dei pregi appunto, a suo modo con i suoi difetti, ripeto, però ha provato a giocare la partita, di questo stiamo parlando, il linguaggio dei risultatisti non contempla il merito, non contempla il lavoro, non contempla l'impegno, non contempla l'approccio, l'applicazione, andare in campo a voler conquistare il pallone, voler giocare al meglio delle proprie capacità, voler offrire uno spettacolo al pubblico, voler offrire uno spettacolo al pubblico, perché non è secondario, se no non ha senso fare gli stati, fate dei campi senza spalti, non ha senso avere tutte queste telecamere, fate le partite per conto vostro, lontano dallo sguardo le persone, poi ci fate sapere direttamente come è finita, ve le giocate per conto vostro, in incognita, e poi ci dite il punteggio o magari lo guardiamo sul televideo, sulle app, perché questo discorso bisogna fare puntualmente ai risultatisti, soprattutto i più frustrati, ma in realtà poi parlare con queste persone non è utile e non è neanche possibile, perché appunto parlano un altro linguaggio, continuano a parlare, magari il problema è quello che continuano a parlare, continuano a dire le loro fesserie da decenni, gente che ancora non si è trovato un altro lavoro, che ancora campa di rendita per una volta che è capitato di fare una telecronaca importante, per una volta che ci si è trovati senza alcun merito, senza alcun merito a commentare quella partita lì, e quindi vanno avanti, ma non c'è da rispondere, non c'è da dialogare, perché si stanno spegnendo da soli. Gli ultimi rantoli dei dinosauri, gli ultimi rantoli dei dinosauri, con invidia, con vigliaccheria, con frustrazione, con mediocrità, a volte anche con aggressività, perché il calcio deve essere quello che vogliono loro, cioè è l'unico che riescono a capire, non riescono a capire altro, e quindi l'altro non vale, non esiste, non piace, è meglio di no. Questo provano a raccontare. Ma quante altre esperienze, dopo questo europeo, anche l'europeo precedente comunque, dove l'Italia aveva vinto, ha vinto anche per una botta di fortuna, per una serie concatenata, per una serie concatenata di episodi fortunati comunque, perché non ha mai dominato, forse un paio di partite, su sette, l'Italia, ma comunque, anche contro quell'Inghilterra, eppure in semifinale con la Spagna, vinse provando a giocare a calcio, e giocando a calcio, eppure altri tornei, ormai stanno andando in questa direzione, da anni, e quindi quante altre esperienze servono, da una parte, ai punteggisti risultatisti, per smetterla di dire fesseria, oppure per continuare, ma ammettendo, io dico questo perché sono una cariatide, ma quanto tempo serve anche, a chi continua, a dialogare con questi risultatisti, o ad ascoltarli, ad ascoltarli come se fosse indifferente, invece di fare una presa di posizione politica, su se stessi, di prendere le distanze, perché certa roba non ci serve più, appunto, quante altre esperienze servono, prima di prendere le distanze, prima di smettere di dare ascolto, e attenzione a certa gente, che non vuole altro che, la rovina del calcio, la rovina, la distruzione, quindi viva la Spagna, nel senso di, bene che ci sia, grazie alla Spagna che ci sia, poi però quando ringrazi la Spagna, inevitabilmente devi ringraziare anche l'Inghilterra, perché se la Spagna è stata in grado di fare la partita che ha fatto, è stato anche, grazie, alla partita che ha fatto l'Inghilterra, perché in campo ci si va in due, ci si affronta, ci si sfida, ci si confronta, e non esiste prestazione singola, che sia da poter slegare, che si possa slegare, dall'altra prestazione singola, la prestazione è un evento unico, in cui ci sono entrambe le squadre, che si rafforzano, confrontandosi, che crescono, se hanno la consapevolezza di poter crescere, perché altrimenti sprechi l'opportunità, e quindi di questo parliamo, in questo senso ha vinto il calcio, ha vinto il calcio perché c'è stata una crescita, perché c'è stata un'evoluzione, che ha portato adesso, una squadra che fa quel tipo di gioco, ad essere più forte, ad essere più forte, a poter vincere, non è scontato, perché tu puoi anche, soccombere, nonostante tu sia più forte, di fronte ad una squadra, che sulla carta ha tanti giocatori, fortissimi, bravissimi, nei club, ma che non si esprimono allo stesso livello, in nazionale, e che cerca di fare anticalcio, e che ti propone anticalcio, puoi comunque soccombere, dopodiché però, l'importante, ecco, puoi soccombere perché magari, hai già affrontato questa sfida, ma non hai capito, non hai capito, qual era il tuo livello, non hai capito che cosa avresti, potuto esprimere, non hai capito come superare questo ostacolo, invece la Spagna l'ha capito, ma l'ha capito da anni, e ci presenta questo tipo di, di soluzione, questo tipo di situazione, questo tipo di successo, per tutti noi, per il calcio, appunto per chi ama il calcio, e non vuole essere preso in giro, dai risultatisti, dai punteggisti, e non vuole essere preso in giro, da chi va in campo, per vivacchiare, per vivacchiare, per spuntarla, sull'errore dell'avversario, per giocare in maniera speculativa, per buttarla sulla bruttezza, sulla bruttezza, perché c'è un calcio, che può essere bello, ed è vario, ed è veramente variegato, e ci si può esprimere in tanti modi, a discapito di quanto dicono i punteggisti, che accusano gli altri, di essere dogmatici, e poi c'è un calcio brutto, che può essere in pochi modi, in ben pochi, cioè il calcio brutto, è l'anticalcio, cioè nel senso, qual è l'anticalcio? Quello dove tu non vuoi conquistare il pallone, non vuoi fare niente di speciale, vuoi stare lì, soltanto a difendere, che bisogna anche saperlo fare, e chi difende bene, ha una bravura, ma che significa difendere bene? Non significa essere passivi, essere passivi, rinunciare al pallone, non è stato il caso specifico, ieri dell'Inghilterra, però l'Inghilterra, ha fatto anche questo tipo di non calcio, di anticalcio, nel corso di questo europeo, anche come c'è arrivata, in finale, così come l'aveva fatto la Francia, così come a tratti l'ha fatto il Belgio, che è stato veramente, forse la squadra più deludente, per quello che ha proposto, anche rispetto ad un allenatore che è giovane, e che dovrebbe essere in grado di far proporre qualcosa di diverso, ad una squadra forte, insomma, complessivamente un europeo noioso, deludente, ma allo stesso tempo, per altri versi, divertente, interessante, comunque abbiamo visto delle belle squadre, la Danimarca, la Georgia, la Turchia, la Slovacchia, ed altre che si sono espresse, molto bene, che hanno fatto un calcio sorprendente, e anche questo, poi, che cosa gli vuoi dire, non hanno vinto, e quindi, ma vince uno solo, quindi che cosa stiamo a fare, a deridere tutti quelli che hanno perso, non ha senso, vince uno solo, ma in realtà, proprio per questo, non vince uno solo, perché quello che vince, intanto, vince, portandosi dentro l'esperienza di tutte le squadre che ha affrontato, ma le squadre che non vincono, perché non possono vincere tutte, si portano comunque l'esperienza, di quello che hanno fatto vedere in campo, e se una squadra è piaciuta, ed è stata bella, tu te la ricordi, ti ricordi l'emozione, di quello che hai visto, poi, l'albo d'oro, è quello dove c'è scritto il nome, di chi vince, ma l'albo d'oro, lo puoi andare a consultare, anche senza aver guardato le partite, quindi se stiamo parlando, di far vedere le partite, di guardare le partite, e quindi stiamo parlando di calcio, e stiamo parlando anche di monetizzare, la trasmissione delle partite, dell'organizzazione di questi tornei, dobbiamo parlare, stiamo parlando, di quello che metti in campo, della bellezza che fai vedere, della prestazione, dei valori che metti in campo, e quindi è quello, che alla fine rimane, in questo senso, ha vinto la Spagna, con il suo stile, ha vinto quindi il calcio, grazie alla Spagna, grazie al calcio, grazie per la vostra attenzione, seguitemi da tutti i link in descrizione, e grazie a chi mi segue già, da un po' di giorni, su Spotify, podcast da guardare, e anche semplicemente ascoltare, link in descrizione, ci vediamo molto presto, e per il calcio, voglio un allenatore, grazie a tutti,